Ciao ragazze, sono io la vostra Maurer Gladiator e oggi siamo qui per darvi delle informazioni. Prima di tutto vorrei incominciare dicendo che non usciranno tanti video. Uno perché devo impegnarmi un po' sullo studio e due perché voglio fare dei video che vi possono veramente piacere. Cioè, non ragazzi, io posso dire solo che posso fare video accettabili, sì, ma non posso dire che ho dei video belli e mai li farò. Ma io voglio raggiungere un livello per farli un pochino più carini, ecco. E insomma, quindi credo che per un mesetto non farò video, cioè, li farò certo, ma non tanti. Diciamo che ogni mese forse ne farò due? Non lo so ragazzi. Mi devo impegnare sullo studio e mi devo impegn... no, non mi devo impegnare che se... Cioè, come il mio gatto, se vi sembra logico che sia montato qua dentro, non lo so. Mi sa che li apro l'acqua. Bravo! Adesso ti apro l'acqua, va bene Zechi? Uno, due, tre! Apriamoci l'acqua Zechi! Yeah! Zechi! Zechi! No, ma che fai? Allora ti vuoi bagnare! Zechi! Beve l'acqua? The stupid cat! The stupid cat! Vabbè Zechi, se vuoi fare un bagno dimmelo. Comunque, insomma, stavo dicendo che... Insomma, mi devo impegnare sia sullo studio e sia... Su Zechi? No, non fallo! Please! Please! Please non montare dove c'è l'It's Spetshop! Please! Vabbè! Comunque, a parte il mio gatto che è montato da dentro, se tra poco gli butto il tubo dell'acqua addosso, non lo so. Lui vuoi il tubo dell'acqua, lo vuoi? Lo vuoi? Sarà meglio che ti ritiri! Comunque. E niente, volevo, insomma, questo paio di aggiornamenti e nient'altro. E... Ah già! E vi volevo anche dire che per i concorsi MTM di disegno, allora per quello MTM, manca solo l'immagine di Marti Colle Channel. Se me lo dai entro oggi, potrò fare due video oggi, se no domani. Senza la sua immagine. E per i concorsi di disegno, entro stasera ci sarà. Questo YouTube. Adesso vi devo salutare. Ciao dolcezze! Ci vediamo!